In provincia di Teramo il Covid-19 è tornato a correre un aumento dei casi che preoccupa e su cui la ASL chiede ai cittadini di fare attenzione e rispettare tutte le normative in vigore, oltre ovviamente a fare il vaccino. A colonnella il sindaco Massi ha firmato nella serata ieri l'ordinanza con cui ha disposto la chiusura delle scuole da oggi fino al 7 dicembre e questa mattina ha firmato un secondo provvedimento con cui anticipa la chiusura degli esercizi commerciali alle 20. ad eccezione dei ristoranti. Nel piccolo comune vibratiano con 3.700 abitanti il coefficiente tra il numero di positivi abitanti è alto, tanto da essere tra i peggiori se non il peggiore in Abruzzo. Le scuole erano già state chiuse classe per classe laddove si erano verificati dei contagi. I contagi si erano, si sono allargati ad un livello che mi è sembrato veramente importante e quindi abbiamo deciso una chiusura di una settimana nella speranza che questo almeno costituisca un richiamo grande all'attenzione a tutte quelle precauzioni che sappiamo tutti di dover adottare. Per quanto riguarda le attività commerciali avete firmato una nuova ordinanza? Sì, nuova ordinanza è così, abbiamo firmato una chiusura alle 8 ma sostanzialmente la chiusura riguarda quei luoghi dove si può accedere senza green pass, senza controlli, questo non tocca i ristoranti, questo non tocca nessun'altra attività, quindi anche qui è più un segnale da padre di famiglia più che da sindaco che impedisce proprio per dire signori è arrivato il momento di fare un po' più di attenzione. Quindi parliamo sostanzialmente di locali dove si va a bere, dove si staziona senza mascherina e soprattutto senza green pass. Ovviamente siete in stretto contatto con la ASL per monitorare passo dopo passo la vicenda. Direi che quotidianamente questa interlocuzione esiste e purtroppo esiste nel senso di registrare casi che si sono portati quasi ai livelli massimi dei peggiori momenti di questa maledetta pandemia. Dal punto di vista delle facilità quali sono quelle più interessate dalla positività? Sono equamente distinte, certamente il cluster è parte dei giovani, parte dalla scuola, dopodiché arriva le famiglie e nelle famiglie c'è di tutto di più. Il concetto che riguarda i ragazzi è verissimo perché oggi parte da lì, però poi la malattia purtroppo, quantomeno a livello di malattia, grazie a Dio curabile ancora in casa, arriva a qualunque tipo di età e soprattutto nella fascia 40-60. C'è la possibilità di una zona rossa, visto il considerato il numero? Io penso di no perché francamente non sarebbe più risolutivo di quello che stiamo facendo, ma soprattutto perché sono totalmente sicuro che i miei concittadini capiranno ancora di più qual è la situazione e quindi adotteranno quei provvedimenti a partire dalla vaccinazione che ci aiuteranno ad uscire ancora una volta da questa maledetta situazione.